Sul caso di corruzione che ha coinvolto il numero 2 dell'Agenzia delle Entrate di Pescara, Giovanni Imparato, filmato in fragranza di reato dalla Guardia di Finanza mentre riceve una busta contenente denaro per chiudere un contenzioso, è intervenuta oggi la Direzione Generale che da Roma ha fatto sapere che si costituirà parte civile a tutela della propria immagine. Nel frattempo a Pescara, dopo la perquisizione avvenuta il 20 aprile scorso, c'è riservo sullo stato dei lavoratori. Qualcuno parla di clima teso, intanto a parlare il Direttore Provinciale che si unisce alla voce del Direttore Generale, Rossella Orlandi. Questa è la posizione dell'Agenzia delle Entrate, ha manifestato in maniera molto chiara, chiaramente per quel che mi riguarda non posso che ricondurre l'iniziativa della Direzione Centrale dell'Agenzia delle Entrate e soprattutto ci rimettiamo all'azione dell'autorità giudiziaria per accertare i fatti e la verità.